Per la dodicesima volta la Vitri Frigo Arena è stata il teatro della tappa italiana della World Cup di ginnastica ritmica. Per la prima volta Pesaro ha però ospitato le migliori ginnaste del mondo senza l'applauso del pubblico escluso come da normative Covid. Dagli schermi tv si sono comunque potuti applaudire anche due ore di squadra nella disciplina delle cinque palle e in quella dei tre cerchi e quattro clavette. Soddisfacenti anche i piazzamenti delle individualiste Sofia Raffaeli e Alexandra a Giorgio Cugullese così come molto soddisfatto è stato il comitato organizzatore di una Pesaro sempre più capitale italiana della disciplina. 12 anni che organizziamo questa Coppa del Mondo doveva essere il tredicesimo ma purtroppo l'anno scorso è saltato. Sì però le cose cambiano sempre quindi comunque bisogna sempre migliorarsi e non è detto che sia ancora tutto perfetto insomma c'è margine di miglioramento però penso che comunque anche se non c'è il pubblico sia comunque anche a livello di layout bellissimo e spettacolare in tv. Siamo molto contenti perché è l'evento internazionale che parte per primo in Italia dal punto di vista proprio di tutti gli sport e per la nostra città e per il territorio segna la ripartenza anche della stagione turistica portando insomma centinaia di persone nella nostra città nelle nostre strutture ricettive facendo partire realmente insomma la parte turistica del nostro territorio e per noi è una soddisfazione doppia perché il dodicesimo anno di organizzazione di questa manifestazione ci ha fatto arrivare ai vertici mondiali proprio sotto il profilo organizzativo e ci candideremo sicuramente altri quattro anni per la riorganizzazione. Dal punto di vista sportivo Pesaro è stata anche uno degli ultimi test probanti per le farfalle azzurre in vista delle olimpiadi di Tokyo. La federazione ginnastica parteciperà a Tokyo non solo con la squadra nazionale ma ben con due ginnaste individualiste. Tutte e due le ginnaste che porteremo a Tokyo saranno sicuramente competitive e la nostra ambizione è quella con le individualiste di entrare nella finale delle prime dieci ginnaste. Poi naturalmente è una gara unica nel suo genere la finale olimpica e quindi le porte sono aperte veramente per poter pensare di sognare e arrivare a una medaglia. Per quanto riguarda la squadra nazionale è una squadra titolata, una tradizione veramente importante quella dell'Italia e si va a Tokyo per anche lì sognare e per raggiungere una medaglia importante. La concorrenza è veramente agguerrita e quindi sarà anche quello il momento proprio della competizione che determinerà chi è più forte.